Tutto pronto per la nuova edizione di C'era una volta, il programma televisivo di Teleclub Italia dedicato alle fiabe di Giovanni Battista Basile, al quale partecipano le scuole medie della Campania. Ci ha detto di più sul ritorno di C'era una volta la conduttrice e autrice della trasmissione Carmen Cadalt. Quest'anno, oltre le nuove scuole che provengono non più soltanto dall'area nord, ma da varie aree della Campania, abbiamo anche delle iniziative, possiamo dire, a costola. Undici le puntate in cui le scuole si sfideranno in un viaggio attraverso le fiabe tratte dall'opera di Basile Locunto degli Conti. In palio per la squadra vincitrice, mille euro di libri, mentre la scugnizzeria di Melito donerà al secondo classificato una fornitura di testi dal valore di 500 euro. L'edizione 2024 del programma, ideato poco più di due decenni fa, è stata presentata nella sala Nasseria del Consiglio regionale della Campania, che dà il suo sostegno all'iniziativa culturale, come testimoniano le parole del consigliere Giovanni Porcelli. Siamo qui a riproporci come regione Campania al vostro fianco, perché rivalutare il Basile significa non solo rivalutare un territorio, o meglio l'intera regione Campania, ma significa riagganciarci alle nostre origini, alle nostre tradizioni. Ecco, riportare in auge colui che già un po' di secoli fa aveva quella verve rivoluzionaria che ci appartiene, ci contraddistingue, che fa sì che questo territorio e questa regione sia sempre a testa alta nell'affrontare i problemi che ai miei non mancano e che ci vedono impegnati in battaglio quotidiano. Tra i partner che sostengono c'era una volta anche il parco commerciale Grande Sud, diretto da Fabio Santoro. È assolutamente indispensabile che una struttura contestualizzata in un territorio abbia un'interazione anche a carattere socio-culturale per tutti i propri visitatori.